Siamo con coach Stefano Raiola, coach appena terminata la partita, chiaramente una sconfitta pesante per Pescara, ci fa lei una disamina del match? Sicuramente è pesante anche perché abbiamo perso anche la differenza canestri. Sinceramente ho da dire solo che dobbiamo farci un grande bagno di umiltà tutti insieme, io per primo, ma anche i ragazzi si devono fare un grande bagno di umiltà perché avevamo preparato tante cose in allenamento, ci alleniamo devo dire abbastanza bene, possiamo fare meglio ma non ci alleniamo male però dopo ci vuole la forza, l'energia per fare determinate cose anche all'interno di una partita importante, su un campo importante, con un pubblico importante quando due punti contano tanto e noi purtroppo abbiamo fatto tante distrazioni, ho visto tanti egoismi, tant'è vero che abbiamo tirato col 28% dal campo e col 28% dal campo non vinciamo da nessuna parte, quindi questa è la mia disamina. Questo sul lato emotivo e sul lato dell'atteggiamento, sul lato tecnico cosa non ha funzionato in Pescara quest'oggi? Non è un lato emotivo, è anche un lato tecnico perché se noi purtroppo ricuciamo degli strappi torniamo pari, poi ricominciamo a fare delle forzature e non torniamo in contropiede e gli concediamo Canessi da sotto in contropiede quando invece noi continuiamo a fare forzature magari non ci hanno fischiato dei falli, può essere, però se io vado uno contro due contro tre, alla fine purtroppo gli arbitri giustamente si adeguano e noi facciamo delle scelte sbagliate, facciamo tante palle perse, facciamo una percentuale dal campo ridicola perché tirare col 28% a questo livello non posso vincere da nessuna parte, quindi ripeto, un grande bagno di umiltà e ricominciare a lavorare come stiamo facendo, però purtroppo devo cambiare qualcosa nelle teste di questi ragazzi perché altrimenti quello che abbiamo fatto di buono fino a gennaio non lo rifaremo, però lo farò con tutte le mie forze sinceramente. Grazie a tutti.